è stata una bella emozione perché questo tipo di serate molto letterarie ti danno la possibilità di approfondire con la differenza quando qualcuno mi chiede com'è il concerto con la band o quando fai le serate di letture di canzoni le serate con la band sono energia divertimento hanno loro fascino incredibile queste serate si può approfondire di più la parte lirica quindi i testi possono raccontare come è nata una canzone si prende appunto e la presenza di fiore mio attore che può inquadrare forse ha diciamo intensificato ancora di più legittimato il fatto che stasera cerci prendessimo qualche licenza poetica e quindi diventa un viaggio un viaggio in cui io perdo anche il conto del tempo veramente la dimensione spazio tempo viene abbattuta e c'è un feeling tra me e il pubblico incredibile tu potresti essere il testimone all'eccezione del rugby sound perché il tuo rugby la tua musica e il concetto di amicizia insieme dobbiamo dirla in questa cosa infatti sono felice che abbiamo chiuso con un saluto agli amici del rugby sound e un saluto anche alla squadra di rugby e poi abbiamo ricordato valerio è un amico che ci mancherà tantissimo che appunto è stato tra gli ideatori e tra i primi e che nel 2019 mi ha chiamato per fare a rugby sound proprio tutto viaggio senza vento quindi una serata indimenticabile un'emozione fantastica un pubblico tra i più belli quello che io chiamo il pubblico rock ecco chi quindi un pubblico adatto alla mia musica e fu un concerto meraviglioso ecco a voi un saluto al rugby parabiago soprattutto a pacchetto di mischia o giro o giro qui o giro col mediano quindi ne sono orgoglioso e a rugby sound lunga vita a rugby sound e a valerio un pensiero perché sempre vivo in mezzo a noi allora ci sono due domande che ti devo fare una che arriva direttamente dalla sala e dice che tu sei stato tre volte a Sanremo se tu dovessi tornare un'altra volta a Sanremo quale del tuo repertorio quale canzone porteresti? ma è una bella domanda molto simpatica riporterei lavoro inutile non solo perché mi avalsa il premio della critica come miglior testo ma perché è una canzone che parla del lavoro dell'artista l'ho scritta nel 2004 quindi è una canzone che ha 20 anni ma più si va avanti più credo sia attuale per chi non per chi vuole fare show business mi spiego ma per chi vuole fare arte e musica purtroppo la verità è inutile oggi però i poeti e i musicisti e i pittori ce la rendono più bella oggi ho avuto anche un po' una spoilerata di cose che forse farai in futuro ma lo chiedo ufficialmente a te cosa ti aspetta nei prossimi minuti? ma adesso lo posso dire con grande gioia perché la tua forse è la prima intervista che faccio dopo la TAC io ogni sei mesi devo fare una TAC e quindi oltre che a essere fosforescente quando arrivo a casa la notte mia moglie non ho bisogno di accendere la luce perché ci pensa il liquido di contrasto che mi sta invadendo il corpo e ho fatto la TAC la settimana scorsa ed il cuore è stabile mi hanno dato altri sei mesi quindi posso prolungare questo tour d'addio anche quest'estate e verrò ricoverato a fine anno quindi questo saluto al mio pubblico perché appunto ho annunciato il mio addio a ROC sarà a fine anno e abbiamo sei mesi di più per salutarti ecco avrai più tempo per scrivere però sicuramente ecco riguardo alla tua domanda hai ragione non ho esaudito tutta la domanda rispetto a quello che farò in futuro la prima cosa che mi viene in mente e spero che anche il prossimo intervento vada bene e quindi di essere vivo e in salute e lucido soprattutto se così sarà come speriamo tutti mi immagino sicuramente a teatro che è sempre stato il mio secondo amore il teatro e quindi per me andare a teatro non sarebbe una diciamo una retrocessione in serie B perché il teatro lo amo l'ho sempre fatto il teatro canzone stasera credo che abbiamo fatto è vero Roberto una serata in teatro canzone non soltanto una serata letteraria e quindi di portare nei teatri questo germe di spettacolo che stasera avete visto in via eccezionale allargarlo e farlo diventare uno spettacolo di due ore anche se in realtà mi sa che abbiamo fatto un'ora e mezza e poi appunto per la prima volta sto prendendo in considerazione l'idea di scrivere canzoni per altri che non ho mai voluto fare mio padre mi ha detto che sono un asino come quando ero piccolo perché ho rifiutato anche dei nomi eccellenti ma non perché io mi senta migliore di altri ma perché sono molto geloso delle mie cazzoni e credo che possano essere interpretate solo da me o dalla mia band per quando ricordando il periodo in cui scrivevo per di timoria adesso che sono invecchiato andrò a fare il contadino in toscana perché mi sto trasferendo da milano tornerò a vivere in toscana nella mia terra e quindi l'idea di fare un po il poeta rocker contadino aspetterò tutti gli amici con il fuoco acceso una bruschetta il mio olio per renderla magica e il mio vino grazie